Ma è nato tutto molto velocemente adesso, prima del ritiro, francamente. Sono stato nelle giovanili a Cesena quando era in B e mi allenavo sempre in prima squadra, o molto spesso, non sempre, e quindi mi ero già interfacciato leggermente. Poi ho fatto un ritiro a Salerno, però è la mia prima stagione vera, quindi sì, assolutamente la mia opportunità. Sono stato abituato, dalle giovanili a Cesena, a spostarmi abbastanza e mi sono sempre trovato bene comunque a questi cambiamenti. Quindi anche poi si è riproposto anche in prima squadra, dove sono sempre stato sia a Biterbo sia a Novara. Quindi non ho un ruolo specifico, posso farli tutti. Emozioni vorrei provare, tante emozioni. Ovviamente prendere parte alle partite, questa è la cosa più importante. Io credo molto nell'avere a disposizione un centro importante. Visto che io vorrei cercare di dare il massimo, secondo me è un contesto che ti può aiutare tanto. E qui è tanta tanta roba. Ho conosciuto molto brevemente Cicarini, ci siamo allenati due o tre volte insieme. E poi ho giocato con ex giocatori come Martinelli, Scappini, che mi hanno parlato molto bene. Quindi diciamo che tutto torna per Ile, è stata molto veloce la scelta. Visto che c'è un allenatore nuovo, comunque giocatori nuovi, credo che siamo più concentrati sull'allenarci, prepararci per la stagione. Poi non so se più avanti si inizierà a parlare delle altre. Quindi non è qualcosa a cui abbiamo ancora pensato o parlato. Sì, sicuramente Pietro è preferito il Mancino. Secondo me sono punti di forza, che sono un ragazzo determinato, che prova ad applicarsi e spero di essere un professionista, quindi serio. Cose da migliorare, la verità è tutte. Le verità è tutte perché penso di essere bravo in molte cose, ma si può migliorare tanto ancora. Essendo in Serie B, penso che il livello di un calciatore possa essere sempre molto più alto. La città è splendida, tranquilla, si sta molto bene, si vive tranquillamente. Soprattutto i vecchi compagni che ho avuto mi parlavano dell'ambiente della squadra come un ambiente veramente fantastico. E poi, da quello che ho sentito in questi giorni, loro non erano in questo centro sportivo prima, quindi loro non possono avermi detto riguardo a quello. Lo vedo io che è tanta tanta roba. Quindi loro era più una questione di città e ambiente dentro alla squadra, che era fantastico. Il sogno ovviamente, come per tutti, è un giorno poter arrivare in Serie A. Per me questa è un'enorme occasione, mi piacerebbe giocare tanto e vivere situazioni che ad oggi non ho vissuto. Quindi una tifoseria tanto tanto calda. Adesso a Novara pur era molto carina, però so che a Reggiana è ancora più importante. E quindi diciamo che a Novara già mi erano capitato... Sono stato molto legato con la tifoseria, mettiamola così. Secondo me è una cosa fondamentale, è una cosa a cui aspiro. E quindi mi piacerebbe creare una sintonia tra me e i tifosi. Sapere che loro sono contenti di me sarebbe un orgoglio, insomma. Avendo cambiato tanto, non so benissimo inquadrarmi in un ruolo. L'anno scorso ho fatto molto il quinto, diciamo, e se dovevo aspirare a qualcuno che c'è adesso in Serie A, un di Marco, un di Marco, del mister. Sono rimasto molto colpito. Secondo me ha delle idee molto belle. Quindi credo ci siano i presupposti per migliorare il giocatore. Che credo sia una cosa molto importante e spesso viene un po' trascurato. Quindi per quel poco che ho visto, perché la prima impressione è stata molto 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 buona. Poi speriamo anche noi giocatori di essere all'altezza. Il caldo normale, come ogni stagione, si riesce senza problemi, si soffre un po' e via.